E' un successo che conferma il notaresco nelle posizioni alte di classifica, più andiamo avanti più le chiediamo sempre, ma ci crede? Ci crede davvero? Dipende a che cosa devo credere, nel senso che... Qualcosa in più della salvezza? Diciamo che adesso non mi voglio sbilanciare, però è chiaro che stanno cambiando un pochino gli obiettivi, siamo terzi mi sembra in classifica e cercheremo insomma di mantenere questa posizione, perché ormai ce la giochiamo con tutti, stiamo affrontando quasi tutte le squadre questa è una squadra importante perché è costruita anche per vincere o perlomeno per fare i playoff, quindi insomma ce la giochiamo con tutti e non abbiamo subito da nessuno quindi a questo punto non mi voglio sbilanciare, però è chiaro che adesso gli obiettivi possono cambiare, ma sempre e solamente per fare un campionato importante e non a vincere insomma Sinceramente oggi ci abbiamo messo di nostro per perdere questa partita, perché al primo tempo la squadra ha giocato bene, ha tenuto il campo il notaresco credo che abbia fatto solo quel tiro sul calcio di punizione perché ha preso la traversa poi stranamente il secondo tempo ci siamo abbassati, qualche errore abbiamo fatto abbassandoci fin troppo e poi il secondo tempo non abbiamo giocato mai quindi non credo che sia stato solo un discorso del ritorno del notaresco che chiaramente doveva recuperare una partita che stava perdendo e poi chiaramente gli errori hanno pesato, l'errore sul primo gol, un gol rocambolesco, qualche errore l'abbiamo fatto ma l'atteggiamento non mi è piaciuto l'atteggiamento del Pineto nel secondo tempo è ingiustificabile perché non avevamo, non è che ci hanno pressato noi ci siamo abbassati troppo e l'abbiamo fatto secondo me sbagliando, dovevamo essere più alti, dovevamo forse cambiare prima Cercelluti che non aveva più birra e purtroppo Cercelluti ci ha fatto quella punizione dal limite dell'aria che è stato quel gol rocambolesco e poi queste categorie purtroppo gli errori si pagano il gol che abbiamo preso in punizione era un tiro raso terra piano, il portiere ha pensato che gliela mettesse dietro la barriera e ha fatto un errore quindi purtroppo ci sta, ci sta pure questo, però nel secondo tempo non abbiamo fatto nulla, quindi vittoria meritata del notaresco perché nel secondo tempo almeno si sono alzati, ci hanno pressato e hanno vinto la partita meritatamente, oggi non ho nulla da dire